Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Radio Civita in Blu in questo giovedì 23 aprile 2020. In primo piano ancora i dati dell'emergenza coronavirus Covid-19. Dopo la bella e in parte in aspettata notizia della giornata zero contagi in provincia di Latina, come comunicato dall'ASL, ieri si temeva quello che molti hanno probabilmente in modo improprio ribattezzato un cosiddetto possibile rimbalzo, ma così non è stato. Il nuovo bollettino emesso nel pomeriggio di ieri parla di un solo nuovo caso registrato dall'ASL di Latina. Si tratta di un paziente trattato a domicilio nel comune di Roma, ma entrato nel bollettino proprio perché seguito dall'ASL Pontina. Zero nuovi decessi, si abbassa ancora il numero delle persone in isolamento domiciliare. Ieri la nota della prefettura anche di Latina che ha fatto sapere come si sta lavorando proprio per preparare la fase 2, in particolar modo nell'attenzione a vigilare, come consigliato dal Ministero dell'Interno, sulle infiltrazioni della criminalità. Ma il prefetto Maria Rosatrio spiega anche che, per quanto riguarda le prossime festività del 25 aprile e del 1 maggio, durante le quali rimangono in vigore le rigide misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, il prefetto ha disposto di rafforzare dei dispositivi di controllo sulle principali arterie stradali, porti e stazioni ferroviarie, al fine proprio di prevenire il possibile esodo verso le località turistiche della provincia. Andiamo alla cronaca, operazione dei carabinieri, ieri a Fondi ve ne abbiamo parlato, è scattata all'alba di mercoledì sullo sfondo del centro storico locale, vedendo in azione i carabinieri di Latina e gli specialisti del NAS. Sette in totale, non otto, come comunicato in un primo momento, le misure cautelari, alcuni a carico di soggetti già ristretti in comunità e quattro in carcere e tre domiciliari. L'inchiesta che ha fatto scaturire il blitz ha portato a tipotizzare reati di ricettazione, falso materiale di certificazioni mediche, truffo ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio. L'attività investigativa denominata Compressa Express ed avviata dalla NAS di Latina nel 2019 è stata coordinata e diretta dalla Procura Pontina, nelle versioni del procuratore aggiunto Carlo La Speranza e del sostituto procuratore Valentina Gianmaria. Proprio l'assessore alla sanità D'Amato, con una nota, è intervenuto nella giornata di ieri in merito ai fatti di cronaca riscontrati a Fondi e che hanno portato a far scattare le misure cautelare nell'operazione di cui parlavamo poc'anzi. Voglio ringraziare i carabinieri dei NAS, la Procura e i magistrati che hanno brillantemente eseguito le indagini, ha spiegato l'assessore alla sanità regionale. La Regione Lazio e l'ASL di Latina, concluso nella nota, si costituiranno parte civile nel momento in cui sarà il rinvio a giudizio. La notizia invece era nell'area da diverse settimane, più l'emergenza Covid-19 avanzava, più si annusava la possibilità che la scadenza elettorale potesse essere posticipata. Alla fine è arrivata la notizia ufficiale, direttamente dall'ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Fondi e Terracina, i due comuni della nostra zona che dovevano rinnovare le proprie cariche questa primavera, andranno al voto nell'autunno del 2020, precisamente in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, a traghettare rimarranno i vice sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e di Terracina Roberta Tintari. Da domenica 26 aprile il Comune di Gaeta riapre il cimitero cittadino tutti i giorni, escluso il 1 maggio dalle 8 alle 12, per ora è ritenuto opportuno consentire l'accesso a piccoli gruppi alla volta e con ingressi contingentati per evitare assembramenti o lunghe file all'ingresso. L'accesso al cimitero sarà disciplinato ed organizzato secondo orari e turni di eccesso concordati con l'ufficio comunale preposto per consentire una fruibilità ordinata al luogo sacro, fanno sapere dal Comune. Chiudiamo con l'intervista a cura del nostro direttore Don Maurizio Di Rienzo, al rettore dell'Università di Cassino Giovanni Betta, nei giorni scorsi è disponibile su Sprichere insieme a tantissimi altri podcast. Vi proponiamo un estratto, ascoltiamolo insieme. Dopo una prima fase di assestamento, poi era un periodo in cui erano previste numerose sedute di laurea, perché a marzo è un periodo in cui finisce l'anno accademico, quindi molti ragazzi si laureano, noi abbiamo laureato a distanza 170 ragazzi in questo periodo, c'erano ancora degli esami, partivano i corsi del secondo semestre, in questo momento sono in corso oltre 400 corsi erogati in modalità telematica. Vi ricordiamo che oltre che su Sprichere potete seguirci anche su radiocivita in blu.it e visto che siamo in chiusura del nostro appuntamento con l'informazione locale vi ricordiamo anche i nostri contatti. Potete scriverci su whatsapp al 348 888 1447 o se preferite radiocivita in blu. Per questa edizione è tutto, un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto su radio Civita in blu.